EXTREME FONTANTA Ma noi lo andiamo a riascoltare in quel pezzo Che tanto successo ebbe nel 1985 Semplicemente HEART ON FIRE EXTREME FONTANTA Perché? Cos'è successo? No perché io stavo parlando È di Ponte Bianco Non si ha più sentito la voce La ciamata musca Adesso salto dall'altra parte del vetro Vengo là e ti copro la mazzata Va bene insomma Vabbè, ora sento solo la naricchia però Dall'altro un po' si sente bene Non si fa apposta Ma non va bene Non mi piace Dall'altro un po' si sente ben bassi Eeeeeeeh Ognuno di noi ha una canzone Viene associato a un ricordo E pertanto Sai su Xtreme 80 Stai ascoltando i pezzi meno ascoltati del mondo E che cazzo vuol dire questo? Non vuol dire proprio una beata fava Ma attaccatevi a sti coglioni E ascoltatevi Se volete ballatela Momo Radio Rudy & Co Ciao Ciao